Da poco Apple ha rilasciato, come ben sapete, i nuovi MacBook Pro con processore M1 Pro ed M1 Max, dei dispositivi assurdi con delle prestazioni che nessuno si sarebbe immaginato, destinati a una clientela davvero di nicchia che ha bisogno di un dispositivo che offra affidabilità e prestazioni fuori dal comune. Non facciamo però neanche tempo ad abituarci e a renderci conto di questa nuova uscita che trappieranno le prime indiscrezioni sui nuovi e rinnovati MacBook Air del 2022. Infatti Apple sta già lavorando a questi dispositivi da diverso tempo. In questo video vedremo le novità che potremo aspettarci dai nuovi e rinnovati MacBook Air. Ciao a tutti ragazzi, qui è Mattia e bentornati in questo nuovo video. Come sapete, ogni volta prima di iniziare vi chiedo di supportare il canale iscrivendovi, mettendo like a questo video e accendendo la campanella, così da restare sempre aggiornati sulle nuove uscite del canale. Dopo la presentazione di Apple abbiamo capito che questi nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici sono destinati soltanto a due tipi di clientela, ai ricconi che hanno bisogno di far vedere chi ce l'ha più lungo, visto il prezzo d'ingresso di 2300 euro, e ai professionisti per rendere il loro lavoro più fluido e produttivo. A parte gli scherzi ragazzi, come avrete visto magari in altre recensioni, questi nuovi dispositivi saranno destinati a un numero davvero ristretto di utilizzatori, proprio perché questi nuovi processori e le performance offerte potranno essere sfruttate soltanto da un numero ristretto di utilizzatori. Questi dispositivi, infatti, strizzano l'occhio ai professionisti, a tutti coloro che fanno foto e video editing ad alti livelli, con girati davvero pesanti sia in termini di giga, sia in termini di dati da dover elaborare, renderizzare ed esportare. Sicuramente saranno anche un ottimo alleato per tutti coloro che fanno musica e fanno progettazione in 3D. Insomma, a tutti coloro che con il MacBook Pro si guadagnano da vivere, e con un upgrade del genere potranno alzare l'asticella dei loro contenuti. Per tutti coloro invece che sono alla ricerca di un portatile performante e vogliono restare in casa Apple, la soluzione offerta attualmente è MacBook Air con processore M1, un concentrato di potenza in poco più di un chilo. Già con il processore M1 Apple ha sbaragliato la concorrenza, offrendo dei dispositivi altamente performanti in grado di tenere testa anche a dei computer fissi. Chi è già possessore di un dispositivo con processore M1 sa di che cosa sto parlando. Da qualche giorno però sono uscite le prime indiscrezioni e rumors sui nuovi portatili entry level di casa Apple. Apple infatti sta già lavorando da diverso tempo ai nuovi MacBook Air. Prendiamo però tutto con le pinze perché si parla sempre di rumors e da qualche rendering trovato online. Da quello che abbiamo potuto scoprire navigando online, i nuovi MacBook Air avranno un nuovo design, ricorderanno in qualche modo gli attuali MacBook Pro con i bordi un po' più squadrati. Sicuramente tutti ci stiamo aspettando un nuovo design per questi dispositivi, anche se personalmente il design degli attuali MacBook Air mi piace moltissimo. È anche vero però che questa linea è identica dal 2019 e quando si parla di informatica si sta parlando di davvero tanto tempo. Oltre a un nuovo design potremo aspettarci anche diverse colorazioni e particolari. In questo caso ricorderanno magari gli iMac usciti in questa primavera. Un'ulteriore novità a reparto estetico è data dalla tastiera e dai bordi del dispositivo, che infatti saranno bianchi, che se vogliamo trovare un'analogia con il passato ricorderà in qualche modo i MacBook del 2009-2010, quelli in plastica insomma. I più attenti avranno notato un'ulteriore particolarità, che alcune voci sembrano confermare. Infatti sui nuovi dispositivi dovremo aspettarci la nocce. Sì, la nocce, e per aggiunta bianca. Lasciatemi spendere due parole su questo aspetto. Che faccia piacere o meno averla, su MacBook Pro poco cambia, proprio perché i bordi sono già neri, c'è la possibilità di mettere il tema scuro, e magari con altre applicazioni è anche possibile nasconderla, quindi nella maggior parte delle occasioni è anche possibile nasconderla, o comunque sia riuscirebbe a passare inosservata. Se invece sarà presente sui nuovi MacBook Air, e in aggiunta i bordi saranno bianchi, e di conseguenza anche essa sarà bianca, sarà un po' più difficile farla passare inosservato, e di conseguenza o ti piacerà, o te la dovrai far piacere. Se dovessi dare un mio parere e potessi scegliere tra avere un bordo completamente fine o avere la nocce, ovviamente sceglierei un bordo senza la nocce. È anche vero però che è diventato un segno distintivo di casa Apple, oltre ovviamente alla sua utilità. Sotto al cofano molto probabilmente troveremo una versione aggiornata del processore M1. Si ipotizza infatti il nome di questo nuovo processore in Apple Silicon M2. Sarà quindi una via di mezzo tra l'M1 e l'M1 Pro, e ci sarà quindi da vedere da che punto penderà l'ago della bilancia, se più verso il primo o più verso il secondo. Per quanto riguarda i tagli di memoria, non dovrebbero esserci variazioni, con un modello di ingresso da 256GB, però può passare al 512GB. Speriamo quindi per i più bisognosi che ci sia un ulteriore terzo modello con un Tera di archiviazione. Come sugli ultimi Pro, anche su questi dispositivi potremo aspettarci un caricatore MagSafe. Sui lati dei nuovi MacBook Air potremo trovare anche due porte USB-C Thunderbolt 4, una per lato, oltre anche al jack per le cuffie. A questo punto non ci resta che sapere quanto costeranno e quando usciranno. Per la prima domanda, ovviamente dovremo aspettare la loro presentazione, anche se dubito che manterranno lo stesso prezzo degli attuali MacBook Air. Invece, per quanto riguarda la loro possibile data di uscita, si parla del primo semestre del 2022, intorno ad aprile e maggio. Magari in concomitanza col WWDC del 2022. Molto bene ragazzi, questo è tutto quello che sono riuscito a scoprire per ora sui nuovi e futuri MacBook Air. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete altre indiscrezioni e cosa ne pensate di quelle che vi ho appena portato. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!